gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia adesso la sardina santori intervista gualtieri il ministro dell'economia si vede questa foto che una dove si vede il mattia santori questo questo signore con maglietta con scritto pacman che intervista il ministro dell'economia in cravatta bandiere dell'europa e tutto quanto diciamo che un'immagine che stona un'immagine che stona vedere questo ragazzo santori che abbiamo conosciuto quello che dice quello che pensa come parla eccetera eccetera intervistare comunque un ministro della repubblica è a dir poco deprimente una cosa del genere che il governo scenda a questo livello per farsi intervistare da il capo delle sardine è veramente è veramente agghiacciante quindi il governo cerca tutte le vie di sponsorizzazione non visto che durante questa crisi sanitaria ha fatto o meglio non ha fatto tante cose ecco poche cose che ha fatto le ha fatte con ritardi anche di 50 giorni come il decreto rilancio quindi stia cercando con diversi canali di risponsorizzarsi una sorta di propaganda e così un'intervista che è andata in onda in streaming attenzione sulla pagina facebook 6.000 sardine che è uno spot mal riuscito al decreto legge rilancio e alle misure del governo quindi un governo che cerca addirittura la sponda di questo movimento che abbiamo imparato a conoscere in questi in questi mesi intanto santori no che fa il giornalista intervista gualtieri e prima parla del curriculum di gualtieri no fa l'elenco delle voci del curriculum di gualtieri complimentandosi per la sua carriera incredibile no immaginate lei i complimenti per la sua carriera quindi lei è nato qui ha fatto qui ha studiato la ma che razza di intervista è con il curriculum e i complimenti no naturalmente da si evince che non è un'intervista imparziale perché prima di tutto se un'intervista parte coi complimenti per il suo curriculum per quello che ha fatto capite che c'è già subito qualcosa che non va e poi dice lei si fa la domanda che avrei dovuto farle io per arrivare anche l'auto elogio dello stesso santori quando ho fatto i test di economia all'università ho dato la risposta giusta alla domanda quale fosse la voce per cui si spende di più lo stato sanità quindi santori si dice io ai test universitari ho risposto che la sanità è dove si spende di più si auto elogia in questa tristissima affermazione no ma non finisce qua a questa intervista pensate durata 50 minuti pensate quel povero Gualtieri chissà le domande che ha dovuto ricevere ovviamente nessuna domanda nessun accenno al dramma degli imprenditori dei commercianti che in questi tempi hanno dovuto chiudere bottega a causa dei ritardi degli interventi del governo ma le notizie proprio di questi giorni cominciano a essere veramente pesanti la nota la nota azienda che noleggia macchine la herz è in bancarotta migliaia di dipendenti in tutto il mondo a casa e poi un'altra azienda italiana della moda che sposta la sua sede da da toscana a milano così con la mossa la mossa di licenziamento tutti come dire gente che ha famiglia a casa vive in emilia romagna in toscana viene trasferita l'azienda a milano dovete venire a milano a lavorare la gente è costretta e perde il lavoro quindi quella dello spostamento della sede una mossa per licenziare tutti e ricominciare da zero quindi capite che la situazione è abbastanza tragica ma in questa intervista no tra tra santori che si elogia anch'io all'università ho risposto alla domanda giusta e al ministro dell'economia nessuno parla di imprenditori commercianti e aziende e poi ricordiamo che il decreto legge rilancio era previsto ad aprile ed è andato in gazzetta ufficiale solo qualche giorno fa dopo 50 lunghissimi giorni e poi santori il sarda lascia spazio a gualtieri che fa anche uno spot all'agenzia delle entrate parlando della nuova tabella a disposizione dei contribuenti che spiega dove vanno a finire i soldi pagati con l'irpef in tutto questo in queste domande ben assestate per gualtieri è scomparsa del tutto qualunque obiezione su una macchina statale che si è fatta trovare impreparata che di fatto deve ancora erogare i famosi 600 euro a milioni di autonomi che li aspettano per evitare il baratro quindi si evince da questa specie di intervista su facebook che questo è stato uno spot al governo realmente un vero giornalista che non è santorio chiaramente avrebbe prima evitato gli elogi al curriculum e poi avrebbe fatto delle domande il ministro è successo questo mi dica la sua opinione su questo cosa diciamo invece è stato un un lunghissimo spot al governo ma voi sapete che comunque le sardine sono di sinistra ovviamente sono una costola del pd una parte del movimento 5 stelle quindi capite che alla fine quello che è successo ma la parte clou dell'intervista è proprio la parte finale finale dove santori santori si lascia andare a un elogio al governo dice due minuti 120 secondi di complimenti di complimenti 120 minuti di complimenti prima al premier poi all'intero governo no due minuti santori prima afferma che conte ha chiesto una diminuzione dello stipendio ma io so che conte ha alzato lo stipendio a palazzo chigi a tutti i dipendenti però lui lui ricorda di aver visto una diminuzione e aver sentito una richiesta di conte di diminuzione dello stipendio e poi parla del governo dicendo devo dire che anche bello poter parlare con un ministro dell'economia che spiega quello che fa grazie per il lavoro che fate a prescindere dai colori politici ma ma cosa stai dicendo voi movimento di sinistra che si colloca tra il centro sociale e la sinistra fate lo spot elogio a questo governo un'intervista finta di 50 minuti e genufla con con genuflazioni verso il governo e poi alla fine vuoi far vuoi far trapelare il fatto che è indipendente da qualunque colore politico ma come hai fatto uno spot al governo mi dice alla fine che è indipendentemente indipendente dai colori a prescindere dai colori politici ma lui dice io in qualche modo voglio esprimere una riconoscenza per quello che state facendo mi accuseranno di essere filo governativo ma a volte bisogna andare oltre i colori e oltre i colori filo governativo voi siete di sinistra siete degli elettori di sinistra che vi eravate riuniti sotto la bandiera di questo pesce ritagliato ma perché proprio i politici del centro sinistra non andavano in piazza quindi tu di sinistra con un movimento di sinistra ovviamente sei filo governativo ovvio quindi con questa questa scenetta che voi siete non siete per nessun partito politico lascia assolutamente il tempo che trova quindi uno spot di fronte sulle risposte che il ha fatto l'emergenza sanitaria e sul sulla crisi economica da settembre milioni di italiani dovranno fare i conti con le tasse che il governo ha solo rinviato congelato sospeso e che già a metà giugno arriva la botta sul limo che di certo non farà bene quelle famiglie che si sono trovate in poche settimane a dover rifare i conti in tasca e a causa del lavoro che è venuto a mancare licenziamenti che sono avvenuti che stanno avvenendo e che avverranno in un prossimo futuro ma questo è un filo governativo come santori non le sa queste cose non le vuole vedere ma io credo che non riesce a vederle io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia io vi ringrazio vi auguro un buon proseguimento di giornata arrivederci